Musica Eccoci qua per la terza parte di Ore 7, oggi parliamo di sicurezza, parliamo soprattutto di polizia locale perché una delle grandi rivoluzioni del comune di Udine è stata quella di riportare la polizia locale in capo proprio all'amministrazione e al comune per cercare poi di fare una serie di iniziative volte all'ordine contro il degrado che poteva esserci in città. Abbiamo insieme a noi l'assessore della sicurezza comune di Udine Alessandro Ciani che ci spiegherà insomma una serie di iniziative che stanno portando avanti, inizialmente si parlava tanto di questi vigilantes che c'erano in borgostazione, ripulita, possiamo dire, borgostazione, più o meno quasi, abbiamo avuto anche Marco Rioles a proposito a screenshot in una delle recenti puntate che ha detto da due o tre mesi a questa parte perché lui è uno sociologo che bazzica da quelle parti dice effettivamente la situazione è cambiata e quello che restava da fare soprattutto era non solo nei quartieri ma anche nel centro di Udine dove uno dei grandissimi problemi, non so se sbaglio, era una delle soste selvagge se non andiamo errati ecco, andava messo un po' di ordine insomma, vero assessore? Buongiorno, intanto grazie per l'invito, io sono molto felice ecco del fatto che sia notevolmente migliorata la situazione nella zona della stazione però certamente non dobbiamo ecco sederci e ritenere che grazie ecco anche soprattutto l'apporto della questura, della polizia di Stato con la famosa operazione Magnolia, tutto si sia risolto è evidente L'ordine l'ha mantenuto quotidianamente Assolutamente sì, è evidente ecco che quindi l'attenzione non deve mai mancare è vero, si parlava tanto di questa operazione dei vigilantes che comunque continua, continuerà sicuramente fino a fine anno proprio qualche giorno fa mi ha fermato una ragazza piuttosto giovane che mi diceva mi sento più tranquilla nel passeggiare in via Roma la sera al ritorno dal lavoro per arrivare a prendere il treno da qualche mese con la situazione migliorata, questo ovviamente è qualcosa che fa molto piacere a me fa molto piacere all'amministrazione comunale e in particolare alla cittadinanza, questo è l'importante Multe in centro, sosta selvaggia in centro, è vero che soprattutto da qualche anno il problema della sosta selvaggia in centro storico c'è questo non c'è alcun dubbio Anche vittima, mi scusi, figlia di una situazione in cui si dice ma fin dove inizia la ZTL fin dove finisce perché sinceramente mettiamoci chiaro, questi anni la ZTL, la zona traffico limitata era un po' ibrida Cioè o sì o no, tanti chiedevano anche i commercianti, alla fine la situazione era quasi di ma via Vittorio Veneto si può passare o non si può passare, piazza Duomo, fin dove parcheggio, fin dove non parcheggio Secondo me il tema principale in materia di ZTL che andremo a rivedere, io ritengo entro fine anno è soprattutto la chiarezza e una corretta informazione proprio per consentire alle persone di sapere fin dove si può andare, dove invece c'è un divieto Soprattutto perché è ragionevole ritenere che poi nel momento in cui si completa l'operazione ZTL ovviamente verranno riattivate e installate nuove telecamere ma prima ecco c'è da rivedere tutti i permessi facendo un'operazione chiarezza in modo che ciascuno sappia se e dove può recarsi Quindi insomma prima mettiamo chiarezza dove bisogna andare poi ci saranno nuove telecamere, non come era avvenuto precedentemente In un momento in cui c'erano nove telecamere che avevano portato 30.000 a multa Sì qualcosa di assurdo Qualcosa di assurdo Poi anche veramente tanti residenti che chiedono l'installazione di nuove telecamere per accertare chi viola la ZTL Penso ad esempio a Via Viola in cui c'è una situazione estremamente caotica e sono gli stessi residenti che chiedono al Comune l'installazione di nuove telecamere Quella è una delle prossime telecamere che andremo ad installare nell'ambito della revisione del piano di ZTL Pur che venga fatta chiarezza Ci stiamo lavorando Stiamo lavorando soprattutto con il comandante e la polizia locale su questo tema Ritengo che entro la fine dell'anno faremo chiarezza una volta per tutte Ecco una delle polemiche mi scusi Assessore Era quello che riguardava appunto Una polemica che è venuta fuori dalla CISAL se non sbaglio Una sigla sindacale E diceva adesso incentivano i vigili, la polizia locale a multare la sera dalle 20 alle Adesso non mi ricordo esattamente E se mettono 800 multe in più hanno un incentivo nello stipendio Ci carisca meglio perché non siamo riusciti bene a capire questa situazione Abbiamo letto solo semplicemente questo allarme dato dalla CISAL Dalla UGL Vi ringrazio dell'occasione per chiarire una volta per tutte questo tema Qualche giorno fa io ho letto come avete letto tutti quanti Un articolo che mi ha fatto onestamente molto arrabbiare Perché venivano affermate delle cose che sono semplicemente delle cose false E non ha fatto arrabbiare me in quanto c'erano degli attacchi Al sottoscritto, all'amministrazione comunale Cosa che è assolutamente normale, legittima nell'ambito della critica politica o sindacale Ma ha screditato soprattutto il lavoro e la figura degli agenti della polizia locale Perché non è vero che ci sia un incentivo a fare più multe Questo è il tema fondamentale Ma lì è il sindacato che ha preso un granchio comunque, no? Ognuno si prende la responsabilità di quello che dice Sì, secondo me ha assolutamente preso un granchio Cioè cosa dice alla fine l'accordo? Allora, l'amministrazione comunale ha deciso di finanziare un'operazione Si chiama programma obiettivo Che consente quindi il venerdì, il sabato e un altro giorno durante la settimana Di aggiungere una pattuglia di controllo del territorio È ovvio che nel momento in cui ci sono maggiori controlli Soprattutto nel centro storico La conseguenza naturale è che se io controllo di più Faccio più sanzioni Questo è ovvio La legge poi prevede che nel momento in cui un'amministrazione comunale Fa un progetto obiettivo Deve stabilire un obiettivo E noi abbiamo stabilito come obiettivo Quello degli 800 accertamenti Tra accertamento e sanzione poi c'è una bella differenza Io posso accertare una determinata situazione Senza poi dover necessariamente arrivare alla contravenzione Anche perché magari accerto che c'è una situazione che è assolutamente nella legalità Conti poi, anche se parlassimo di 200 sanzioni Cosa che non è Ma poniamo che si tratti di 800 sanzioni Significa che ogni operatore nell'ambito di 4 ore fa 3 sanzioni Quindi cosa che è assolutamente normale Nulla di preoccupante assolutamente La cosa che a me ha fatto veramente arrabbiare in quella fake news Perché è veramente una fake news E che si è svilito il ruolo dell'agente di polizia locale Quasi che ci guadagnasse una percentuale sulle sanzioni che fa O quasi che il comune non pagasse lo straordinario al lavoratore Se non facesse tot sanzioni Una cosa secondo me veramente molto molto grave Che ha fatto soffrire a me Ha fatto soffrire gli stessi lavoratori Che si sono trovati la mattina ad aprire il giornale Dovete chiarire la situazione insomma anche con il sindacato Assolutamente sì Ma il tema è che La cosa che veramente mi ha fatto più dispiacere È che l'operatore, l'agente di polizia locale Ha tantissimi compiti E soprattutto negli ultimi anni La polizia locale ha sempre più abbandonato Ecco il ruolo da vigile urbano E si è sempre più invece avvicinata al ruolo A un ruolo simile a quello dell'arma dei carabinieri Della polizia di stato Tant'è che voi avete da rete anche in dotazione Delle strumenti in più Esatto Proprio per quello che dicevo prima Quindi che si sta avvicinando alla figura Veramente della polizia L'operatore si trova molto spesso A dover gestire delle situazioni di pericolo Anche per la propria incolumità Penso al turno di notte In cui vengono fatti dei controlli In alcune zone delicate L'operatore si trova a chiedere i documenti A fare delle perquisizioni In questo momento la polizia locale di Udine Ha solo l'arma di ordinanza Ci sono invece delle situazioni In cui possono essere necessari Degli ulteriori strumenti La giunta qualche settimana fa Ha deliberato l'acquisto Del bastone estensibile E dello spray al peperoncino Cosa che avviene in tantissimi corpi Di polizia locale in Italia E proprio venerdì In consiglio comunale Andremo ad approvare La dotazione del taser Della pistola di impulsi elettrici Io sono molto convinto di questa scelta Soprattutto perché è uno strumento Che consente al lavoratore All'operatore Di difendere e di difendersi Senza il pericolo Di uccidere la persona Con cui ha a che fare Quello del taser Era una dotazione Che è avvenuta già Per molte questure Per l'arma dei carabinieri In diverse zone d'Italia Tre giorni fa Sono stato a Padova A confrontarmi Con il questore di Padova Padova è la questura pilota Nell'utilizzo del taser E scelta Proprio perché C'erano molti episodi Di violenza Nei confronti Dei poliziotti E da quando Circa un anno e mezzo fa La questura di Padova Ha iniziato ad utilizzare il taser Si sono ridotti Questi episodi Dell'80% Proprio perché Molto spesso È sufficiente Che il poliziotto Mostri Di avere in dotazione Il taser Affinché Il malintenzionato Ha un deterrente Per esempio È un deterrente fondamentale E anche proprio la città Ha accolto Di buon occhio Di buon grado Questa dotazione Quindi noi iniziamo Con venerdì Un percorso Che è un percorso Comunque complesso Che richiederà Richiederà del tempo Anche e soprattutto Di formazione Degli operatori Perché ovviamente Non è che Non abbiamo nessuna voglia Di avere un far west In città Ma abbiamo L'esiderio Di valorizzare La grande professionalità Che c'è all'interno Della polizia locale Ma di consentire A questi ragazzi Di lavorare In sicurezza Ecco l'ultima cosa Che le chiedo Tornando alla questione Delle contravenzioni Ovviamente il dato È sfalsato Rispetto allo scorso anno Perché anzi L'anno scorso anno Era leggermente pompato Per quelle 35 mila multe Ma tendenzialmente Nel centro storico Siete riusciti a fermare Questa sosta selvaggia E ad aumentare Queste contravenzioni Indicativamente A spanne Insomma Si sono aumentate Oppure no Sono certamente Aumentate Le contravenzioni Anche perché Soprattutto Con il ritorno Della polizia locale Come diceva lei Nell'ambito delle competenze Sul territorio Sono aumentate Sì quindi Le contravenzioni All'incirca Di un 40-50% Ma sono aumentate Anche perché Facciamo controlli Diversi rispetto Al passato Ci sono molti controlli Di polizia amministrativa Di polizia commerciale E quindi è evidente E quindi è evidente Che nel momento In cui si fanno Maggiori controlli Si scoprono Maggiori situazioni Di illegalità E quindi I controlli E quindi Le contravenzioni Sono aumentate Ma il nostro obiettivo Non è assolutamente Quello di vessare Il cittadino Di punire Portare l'ordine Ma semplicemente Di riportare Un po' di normalità Nella città Che effettivamente Qualche volta Non c'era Soprattutto il venerdì sera Il sabato sera Si trovava Veramente una situazione Di illegalità diffusa Che secondo me Non dà dignità Al centro storico Posso dire una cosa Parchaggi sotterrani Ce ne sono Andate lì Sono anche aperti E attenzione Sono aperti C'è un incentivo Da oggi Dalle 18 Alle 22 L'ora dell'aperitivo Che noi udinesi E noi frullani Amiamo tanto Sono grazie a questa Amministrazione comunale Gratuiti E' una cosa Secondo me Veramente molto Molto importante Che siamo riusciti Ad ottenere E quindi Iniziamo veramente Ad utilizzare Questi parcheggi Sotterranei Noi abbiamo Un po' Quell'idea Di dover parcheggiare Proprio a un metro Magari Appilla a porta E' servito Con l'operitivo Magari perdiamo Invece 20 minuti Per trovare il parcheggio Parcheggiamo Molto più lontano Rispetto a quanto Sarebbe Parcheggiare Le vetrine Ci facciamo Una bella passeggiata E ci guardiamo La nostra udine Non spendiamo Una lira E magari abbiamo Qualche Qualche soldino in più Per berci un aperitivo in più Per andare a fare una compra in più In un negozio in centro storico E per parcheggiare In assoluta tranquillità E in assoluta sicurezza Perché questi parcheggi Sotterranei Sono controllati Saranno controllati 24 ore su 24 Da sistemi di videosorveglianza Dalla vigilanza privata Che utilizza SSM La società che gestisce I parcheggi Questo secondo me È un grande passo in avanti Per la nostra città E per la civile convivenza Anche di tutti i cittadini Degli automobilisti Dei pedoni Dei ciclisti Assessore Zani Buon lavoro Grazie mille E noi ci vediamo Cari te spettatori Tra pochi minuti Con l'ultima parte Di ore 7